Oggi nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madonna delle Grazie, prega per noi. San Padre Pio, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù fu elevato in alto, sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti. Si presentarono a loro e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madonna delle Grazie, prega per noi. San Padre Pio, prega per noi. Nel terzo mistero glorioso, contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecosa stava per finire, i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Gagliarto, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madonna delle Grazie, prega per noi. San Padre Pio, prega per noi. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. L'anima mia magnifica è il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci inturre in tentazione, ma libera a ci dar male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna delle grazie, prega per noi. San Padre Pio, prega per noi. Nel quinto mistero glorioso contempliamo la gloria di Maria in cielo con tutti i santi e gli angeli. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di dodici stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tendazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madonna delle Grazie, prega per noi, San Padre Pio, prega per noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esso di figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre Celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, un solo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergine, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre senza colpa, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di ogni lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Modello di Santità, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo, Tempio di Gloria, Modello di vera pietà, Rosa mistica, Gloria della stirpe di Davide, Splendore di grazia, Casa d'Oro, Arca dell'Aleanza, Porta del Cielo. Stella del mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei martiri, prega per noi, Regina dei confessori della fede, prega per noi, Regina delle vergini, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per noi, Regina concepita senza peccato originale, prega per noi, Regina assunta in cielo, prega per noi, Regina del Santo Rosario, prega per noi, Regina della pace, prega per noi, Angelo di Dio, perdonaci o Signore, perdonaci o Signore, agnoello di Dio, che togli peccati del mondo, perdonaci o Signore, agnello di Dio, che togli peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, Tuoi servi, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo. E per la potente intercessione della Beata Maria Sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e aiutaci a raggiungere la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Per il Santo Papa Francesco, l'acquisto delle indulgenze, per la nostra Chiesa e le missioni. Padre nostro, che se nei Cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi dirimettiamo ai nostri debitori e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con Te, Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ai nostri angeli custodi, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per tutti i nostri cari defundi e le anime più abbandonate del Purgatorio. Dona loro, signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dona loro, signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Dio Spirito Santo